Ceraside cambia ben sé rispetto a domenica scorsa due, Mastrilli e Giuseppe Lenoci per causa di forza maggiore e gli altri per ragioni tecniche Farnetti con Griglia allo stesso modo di sette giorni fa e si parte con il silenzio in campo e con tanti cuori giallorossi nel piazzare antistante. Loro ci sono sempre e non tradiscono mai. Andiamo alla cronaca, l'avvio rispetta il copione della vigilia. Al sesto l'anticipo di un tartaruga su Francesco Di Paolo è essenziale per evitare che la sfera ricada sulla testa dell'attaccante di casa. Poi bisogna attendere 15 minuti per vedere una conclusione di Bracciatelli dalla distanza che non inquadra la porta ma gli emiliani sembrano aver superato la pressione iniziale dei giallorossi tenendo il Giulianova forse un po' più lantano dalla propria metà campo rispetto all'inizio. Il rosso-blu insomma danno l'idea di essere forse un po' più coriacei ma sono forti del 3-0 dell'andata e aggrediscono letteralmente ogni il pallone. Il Giulianova è a metà tra la ragione e la frenesia. Forse sarà questo dubbio a rendere un tantino meno efficace la manovra giallorossa. Si fa male nel frattempo la barba al suo posto. Scusate il gioco di parole. Barba rossa. Mezz'ora Di Paolo si aggiusta un destro dal limite non potente ma nemmeno preciso perché si perde al lato. Al trentasesimo Bracciatelli tiro nello specchio. Grande lotta in mezzeria fino al quarantacinquesimo più due che si chiude senza sussulti. Nella ripresa poco dopo l'inizio fuori Rossi dentro la Guzzi come a Castelmaggiore il primo cambio rosso-blu. Al quarto d'ora tra i padroni di casa fuori Berlafante dentro Rossi Cerasi. Ma la scena è tutta del tarantolato numero 9 bolognese che dichiaratamente ad inizio gare si rifiuta il 5 a centrocampo. Dichiarando guerra in modo personale di cui fa le spese e farà le spese il presidente Mucciconi che perde le staff e viene allontanato dalla panca. Sul campo gestione rosso-blu. Passano i minuti e i giallorossi faticano a mettere pressione e insediare la metà campo avversaria nonostante l'ingresso disperato di Fioretti. Tre punti in avanti. Mezz'ora ripartenza. Progresso. Matta. Bravo a cercare la porta da posizione. Defilata. Rovesciamento di fronte di Paolo e salvataggio sulla linea di Cantelli. Rimarranno gli unici brividi del secondo tempo perché le squadre perdono le misure. I 15 finali sono se non altro più elettrici sebbene le reti rimangono inviolate. Un'accelerata per parte al quarantesimo Fioretti. Al quarantatresimo Ghebre se la si è. Ma è quanto basta il progresso per volare in finale. Mentre il Giuliano può solo recriminare sulla sfortunata gara in Emilia dove si è compromesso il cammino. Allora Presidente una sconfitta sul campo però forse anche una sconfitta politica. Si può dire? Sì. Questo non è calcio. Quello che è successo ma non è per trovare scusanti perché sono proprio l'ultima persona che trova scuse. Anche perché durante l'anno non ha fatto mai polemica. Io ti dico semplicemente una cosa. Non siamo forti fuori dal campo. Secondo me come società forse dobbiamo imparare più che come essere bravi in campo a come comportarsi fuori. Perché quello che è stato visto oggi è uno scandalo per il calcio non per Giulianova. È uno scandalo per noi investitori che oltre a metterci tanto denaro, passione e tanto tempo che togliamo le famiglie. E anche molto fair play, molto buonsenso. Ci ritroviamo una domenica con uno stadio vuoto, lo stadio Fadini vuoto, per nessuna colpa. Forse le colpe sono che non abbiamo conoscenze in alto e non possiamo gestire le varie fasi concordate, disqualifica. Perché noi, compreso i miei tifosi, non abbiamo nessuna colpa. Tranne quella di aver visto la partita insieme ai tifosi avversari, aver pranzato e aver fatto dopo partita tutti insieme. E questa è la nostra colpa, essere troppo educati. Però, venendo al... Fai esperienza questo. Bravo. Dobbiamo essere bravi, non so come si fa. Si fa come hanno fatto loro. Devo imparare a conoscere le persone giuste. Piano piano ci entreremo nel calcio che conta, non nel rettangolo di gioco ma esternamente. Però, venendo al calcio, siamo stati purtroppo non bravi domenica l'altra. Si è perso lì la possibilità di passare il turno. Perché loro con tre tiri hanno fatto tre gol, con quattro tiri hanno fatto tre gol. E noi purtroppo non siamo stati intelligenti. Ma due anni fa abbiamo perso le finali regionali. Quest'anno abbiamo perso le finali nazionali. E un altro anno? Che comincia domani? Noi punteremo a vincere il campionato. E' una promessa anche al pubblico che sta lì fuori? E' una promessa che è stata straordinaria. E' soprattutto per loro, perché a me viene la pelle d'oca. Quindi è una promessa che faccio... Mi prendo questa responsabilità. Noi l'anno prossimo cercheremo, anzi vinceremo il campionato. Filippo Casalini, team manager della squadra del progresso. Avete raggiunto un obiettivo, molto è contato il 3-0 dell'andato. Oggi comunque buona gestione di quel risultato. Sì, sicuramente i ragazzi sono stati bravi a gestire il risultato dell'andata e a gestire anche una partita complessa. In cui nonostante la decisione di tenere lo stadio chiuso comunque sembrava che il Giulianova fosse in 12 uomini in campo. E questo bisogna rendere onore agli avversari. I ragazzi però dal canto loro sono stati molto molto bravi a rimanere concentrati, a prendersi pochi rischi. Di fatto penso che ci sono stati veramente pochi tiri verso la porta di Tartaruga. Quindi buono così. Proiettati verso la finale? Insomma, ci andiamo carichi, consapevoli del nostro valore. pronti a provare a fare nuovamente un'impresa che già compimmo quattro anni fa che per noi vorrebbe dire tantissimo. Mister, io credo che in 180 minuti e in semifinali continuano più le forze nervose che non l'apparato tecnico-tattico. Che pure conta. Le forze nervose che sono difficili da gestire. Sì, sicuramente le fasi finali è una parte di calcio a sé. L'ho vissuta l'anno scorso sulla mia pelle, l'ho rivissuta quest'anno come esperienza che purtroppo la parte della psicologica, la parte della tensione è importante. Importante soprattutto quando si è una squadra molto molto giovane, cioè un'età media veramente giovane. Però questa non è una scusante, sicuramente è un'esperienza. Però sicuramente ha pesato tanto il secondo tempo dell'andata. Io oggi ho visto dei ragazzi ingomiabili dal primo all'ultimo dare tutto, tutto, tutto per cercare di ribaltare questo tipo di situazione. Hanno dato tutto sul piano emotivo, nervoso, tecnico, perché volevano tutti quanti insieme allungare questa storia, soprattutto quest'anno, e pensavamo di arrivare fino in fondo. Però accettiamo malgrado questo esito. Mister, due anni, due finali consecutivi. Possiamo dire che Giulianova e Cerasi si preparano per il terzo anno? Questo dobbiamo vedere perché io adesso a caldo non me la sento di dire certe cose, è così perché voglio riflettere. Ha ricevuto l'applauso della curva, ha ricevuto l'applauso dello spogliatoio, grande commozione, questo conta? Sì, la società ha un ottimo rapporto, ha un'ottima stima, quindi i componenti sulla carta ci sono tutti, però ci sono altri componenti pure miei, familiari, che voglio valutare tutto perché dire di sì o dire di no in questo momento non me la sento perché devo riflettere su tutto quello che devo fare. È normale che questo ambiente, questa società che mi ha dato, bisogna dire questa cosa, mi ha dato una possibilità che magari solo loro mi potevano dare perché io fino a due anni fa non ho allenato nessuno, solo settore giovanile. Quindi trovare una società che ti mette a disposizione tutto e ti fa fare tutto, è vero che abbiamo fatto due belle annate, però è vero che io devo ringraziare la società Inbrins perché non è da tutti darmi questo tipo di fiducia. Io per quello che ce l'ho in mente avevo bisogno di questo. Poi l'altra parte è quella di alcuni che non riescono a avere questa cultura di fare, qua a Giulianova, di aspettare col settore giovanile, di aspettare quei giorni, è un discorso che affronteremo in settimana nei dovuti modi. Mister, se si sente di dire qualcosa a termine di questa avventura, di questa seconda avventura, come ridefinirebbe in una frase questo campionato? Io lo definisco come un sogno che purtroppo al risveglio avevo i battiti alti perché avevo preferito un esito diverso, però è stato un sogno pure il secondo anno, un sogno bellissimo perché... Entusiasmante. Fare 74 punti pure quest'anno con un ambiente così non è semplice per nessuno. Comunque ringrazio tutti, a cominciare dalla società, a cominciare dai tifosi e soprattutto voglio ringraziare uno per uno tutti i miei ragazzi perché sono ragazzi veramente speciali, veramente che si sono messi a disposizione. Mi hanno sopportato e hanno sopportato diverse scelte perché non è una cosa semplice. Quindi ringrazio loro in primis perché sono ragazzi che meritano un futuro veramente erosio.